In questi ultimi decenni si è molto parlato, anche grazie alla riflessione del Papa Benedetto XVI, dell'ermeneutica del Concilio Vaticano II e il dibattito negli ultimi anni non si è placato, anzi si è fatto ancora più rovente. Questo non è certamente strano se ci pensate, in quanto il Concilio Vaticano II ha cambiato la Chiesa in molti modi, che ad alcuni piacciono molto, mentre ad altri ripugnano. Non è quindi strano che si voglia riflettere e capire un evento che è stato altamente divisivo nel bene e nel male. Riflettendo sulla figura dello studioso Giuseppe Alberigo, che fu l'intellettuale di riferimento di quella che viene definita scuola di Bologna, Don Claudio Crescimanno diceva che, e cito, l'intera opera culturale di Alberigo, tesa al rinnovamento del cattolicesimo italiano ed europeo in senso progressista, è incentrata sull'idea della sempre maggiore conformazione del pensiero della Chiesa al percorso effettuato dal mondo moderno. Alberigo vede in questa conformazione la chiave di interpretazione del Concilio Vaticano II e della sua applicazione. Don Claudio Crescimanno identifica bene la direzione degli studi di Alberigo e della sua scuola, una visione del futuro della Chiesa nel senso di un incontro con le istanze del mondo moderno. Come ho detto molte volte, nel rapporto fra Chiesa e mondo moderno si gioca la partita degli ultimi secoli e, mi dispiace dirlo, la Chiesa non sta vincendo questa partita. Dall'essere l'entità propulsiva della cultura occidentale, la Chiesa si è ritrovata schiacciata quasi in posizione di soggezione verso l'avanzata della secolarizzazione. Alcuni suggeriscono una strategia di accomodamento al mondo moderno, mentre altri vorrebbero una posizione di maggiore conflitto. Cristo ci ha assicurato di aver vinto il mondo, ma secondo alcuni noi dovremmo consegnare le armi agli sconfitti. Il Concilio Vaticano II darà da parlare per i decenni a venire, mentre la barca di Pietro prosegue il suo percorso nel mare in tempesta.